Abbiamo in programma un percorso che spazia in tutti i generi, dal pop al jazz, alla rock, alla comedy, una varietà di gruppi, una varietà di artisti veramente incredibile. Abbiamo artisti che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Spagna, dall'Ungheria, dall'Italia naturalmente, a dimostrare ancora una volta come con la voce si possa effettuare e realizzare qualunque genere musicale. Solo voci, nessuno strumento musicale. Cinque serate e sette concerti totali, dal 4 novembre al 2 dicembre, ospitati all'Auditorium di Sant'Artemio a Treviso. Noi abbiamo una grandissima tradizione di canto corale, principalmente, sia profano che sacro. A questo si mescola certamente la tradizione, diciamo, canora dei gruppi vocali. In questo si inserisce un po' il genere a cappella, così contemporaneamente interpretato da questi artisti. Festival che è giunto a compiere quasi 20 anni e che rientra pieno nel programma culturale di Treviso, candidata Città della Cultura 2026. Il nostro dossier si basa anche sulla rete dei festival. Viva Voce Festival fa parte della rete dei festival, che è una rete straordinaria, unica in Italia, che ci consente di avere 365 giorni di cultura all'anno. E quindi, certamente, il canto a cappella fa parte del nostro dossier, anche perché ricordo che Treviso e il Veneto hanno una grande tradizione di coralità e di canto a cappella.